Albert vorrei che ci parlassi tu di un po' di te, va bene? Innanzitutto grazie mille, sei stato molto gentile, io sono un ex attio convinto, un pluripregiudicato, quindi ho avuto vari precedenti con la giustizia, con delle condanne, e già da ragazzino andavo all'oratorio ed ero un provocatore nei confronti del prete, quando mi passavo vicino gli facevo la battuta in confidenza con i miei amici, lo ridevo e dicevo ma come si fa a buttare via la vita così con queste prediche inutili della domenica, senza una donna, senza divertimento, senza niente, quindi puoi comprendere che quando mi parlavano di Madonna e Gesù ero totalmente indifferente, annoiato e distaccato. All'età di 17-18 anni fino all'età di 31-32 anni ho continuato a litigare, a fare a pugni e uscivo con i miei amici che erano dei violenti, anche loro come me, andavamo nelle discoteche, nei bar, nei pub ed era un continuo. Dopo la violenza, quando si coltiva, insomma, diventa un pericolo, diventa una droga, se non litigavo per un certo periodo di tempo ne sentivo il bisogno. Ed eravamo proprio accaniti, feroci, infatti è capitato più di un caso dove dei ragazzi sono andati a denunciarsi dai carabinieri, ma gli stessi carabinieri hanno detto di lasciar perdere perché con noi non sarebbe più finita. E non te lo dico per dimostrare che ero un grande uomo assolutamente, anzi ero ridotto molto molto male e per fortuna ne sono uscito. Siete, ho visto una sera una trasmissione su Italia 1, mistero, che parlava delle apparizioni mariane di San Bonico, in provincia di Piacenza, cioè un uomo che vede la Madonna e riceve messaggi. Mi hanno colpito vari aspetti. Le telecamere che puntavano verso il veggente al momento dell'apparizione hanno inquadrato l'atmosfera che ha cominciato a pulsare come un cuore e i pixel, che sono la punteggiatura più piccola che compone lo schermo, hanno cambiato di forma e di colore. E il proprietario della telecamera ha detto non ho mai visto nulla del genere, se non so dare alcuna spiegazione. Io da ateo, convinto, ho detto, ho pensato le telecamere non possono mentire. Poi alla fine della trasmissione ho sentito che hanno detto che il vescovo ha consigliato di non andare in questo luogo. Non voglio giudicare, però ho percepito subito tanta cattiveria in questa frase e da ignorante ho fatto il mio discernimento. Cioè il male sta dalla parte del vescovo, il bene sta dall'altra parte. Ma ripeto, non voglio giudicare, ti dico solo quello che ho pensato in quel momento. Poi c'è da aggiungere che in questo luogo non accettano offerte, cioè se tu vai e gli dai dei soldi, loro rifiutano. Non si vendono oggetti sacri, statue di Padre Pio, statue della Madonna, acqua, benedetta, rosari, niente. Non c'era un centesimo, non ci sono interessi di alcun tipo. Questo luogo è a 40 minuti di strada da casa mia. Una sera sono andato, prendo la macchina, arrivo, parcheggio, mi incammino a piedi, arrivo in questo campo all'aperto, mi fermo e allo stesso istante in cui mi sono fermato ho sentito una palla di calore all'altezza dello stomaco che mi ha tracciato un cerchio tra lo stomaco e la pancia. Non ti so spiegare il significato, però l'ho sentito. Sono tornato a casa, guarda io ho sudato e ho detto ma cosa sta succedendo? Però non è che ho fatto delle scene, non ho detto niente, me lo sono tenuto per me ma ho riflettuto molto. Sono tornato a casa, ho letto dei messaggi naturalmente con grande curiosità e ho percepito che erano troppo amorevoli per essere inventati da un essere umano. Io ho cominciato a parlare interiormente con la Madonna. Ho detto ok, va bene, voglio cambiare vita, però non ho il coraggio di dire ai miei amici che mi sto convertendo, che voglio cambiare. Dopo tre o quattro giorni, all'incirca, mi è arrivato un segno, cioè un mandato di custodia cautelare. Tre mesi da fare agli arresti domiciliari. Grazie a questi arresti ho avuto la scusa per dire ai miei amici che non sarei più uscito perché avevo troppi problemi con la giustizia, ma era tutta una scusa. E così ho fatto, non sono più uscito, non sono più andato in discoteca, non sono più andato nei pub a bere, non ho più litigato con nessuno e non mi è più passato per la mente. Ho cominciato a studiare questi messaggi, di queste apparizioni. Ho fatto lo stesso con altre apparizioni che ci sono in altre nazioni, tipo in Argentina, Venezuela, Brasile, Spagna, Italia. E ho visto che il contenuto concorda alla perfezione. Ed è talmente importante che mi sono fermato, ho riflettuto e sono entrato subito nell'azione. Ho scritto su dei fogli delle profezie che la Madonna annuncia in tante apparizioni. Ho fatto migliaia e migliaia di fotocoppie e le ho distribuite per mezza Italia, ma nel vero senso della parola. Andavo dai preti, nelle chiese, in moschea, nei capannoni dove si ritrovano gli indiani, dai carabinieri, dalla polizia, guardia di finanza, dall'esercito. E penso un po' te sono andato anche dai vigili del fuoco, per farti capire quanto l'ho presa sul serio, ma c'è un motivo molto serio. E in questi fogli avevo scritto Da fine secolo mistico in poi, partito dal terzo segreto di Fatima, 1917, quindi da dopo il 2017 in poi, accadranno degli avvenimenti forti per l'umanità, tra i quali epidemie. E sta succedendo tutto molto chiaramente. E so cos'altro deve succedere. Quindi è venuto veramente il momento di dare importanza a questi messaggi. Eh sì. Bisogna agire, bisogna cercare di fare qualcosa. Bisogna metterci la faccia, perché Gesù Cristo ce l'ha messo la faccia per noi. Vedete che Alberto si sta dando tutto per questa cosa. Allora, vi dovete fare le domande, fatevi le domande, tutti quanti, tutti, anche io, tutti ci dobbiamo fare questa domanda, perché è importante, ragazzi. Senti Alberto, intanto ci puoi dire come trovi questi messaggi, quindi che ricerche fai, così come... Ma ti posso dire che sono... Sì sì, tutte su internet. Io ho anche frequentato più di un luogo di apparizione e li ricevono e il giorno dopo li pubblicano sul sito. Comunque è tutta una ricerca che è venuta grazie anche dei segni, delle combinazioni, delle coincidenze. Mi è stato indicato un luogo di apparizione, magari tramite un amico che non conoscevo. Tutte queste combinazioni mi hanno permesso di trovarle. e dopo con la lettura, con l'approfondimento, riesci anche ad avere discernimento su quali sono quelle reali e quelle no. Per carità una maggioranza sono vere. Ed è come mangiare il pollo. Se non lo assaggi non sai che gusto ha. E quindi se vuoi capire, se vuoi approfondire, devi per forza studiarli. E come dico sempre, ci sono persone che pescano messaggi qua e là, a destra e a sinistra. Ma lo studio, per capire, va fatto come si fa con un libro. Cioè si parte dalla prima pagina e si scorre ordinatamente fino ad arrivare alla fine. È così che si scopre anche il vero contenuto, il vero messaggio, il significato. di queste apparizioni. Bisogna farsi in quattro. In base anche a creando una sorta di storia, di coerenza tra i messaggi, se sono veri o falsi, se è attendibile. Sì, 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 infatti. Trovi delle coincidenze notevoli, quindi, per ricostruire questo. Trovo delle concordanze e quando non c'è concordanza si capisce con grande semplicità che non è lei che parla. E poi ci sono apparizioni che annunciano degli aspetti profetici che col tempo si compiono e lì non c'è dubbio. E poi comprende anche dal fatto che i messaggi arrivano a persone molto, molto semplici, molto umili, da poco, che in un mondo come questo non sono neanche tanto considerate. Per esempio, uno c'è la quinta alimentare, uno c'è il mercatino di fiori. Vabbè, quindi io direi di parlare di fiori.